Ciao ragazzi sono Lorex Mecca e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox Cuciniamo, cuciniamo Questo gioco l'abbiamo portato nello speciale dei 40 iscritti di ieri Per chi non l'ha visto lo recupera a vedere che hanno fatto un'ora in questo gioco Ah non c'ho come manager per ora E mi devi mettere Ruota il tuo dito Ruota Dito ruota Dito ruota No dito no Scorri di destra Scorri giù Prendi la peste e fai culo Vai mettimi E un attimo sto facendo il pane all'aio E' pronto il pane all'aio C'è Leo Manager Dai Dai 200 di nenaro abbiamo bisogno Non ci credo Aspetta Aspetta che ci arrivi Deveci mettere un eterno L'eterno E ora quanti ne hai Vabbè ogni volta te ne dà 16 Ah no te lo posso fare adesso Sì Dai farlo Sarà su YouTube E rimuoviamo questa qui Ok finalmente Ricorda che puoi fare tutto Se volete Non voglio ne niente Pizza alla diavola La faccio io Una diavola per burma Vuoi un'insalata italiana Subito signora Io volevo fare la pizza La pizza La pizza La pizza Comunque Devo convincere Sarax Delle interviste doppie Che so A chi Tutti piacciono tantissimo Non la fai? Ah non la fai? No Tavolo per uno Tenete Te la prendo io l'insalata Tenete l'insalatina E voi piuttosto Avete lasciato un mi piace? E pure iscrivetevi E iscrivetevi al canale Per chi non ha ancora Nuova insalata italiana Non so se non gli soldi Per prendere un tavolo sopra? Sì Ok No ma non si può mettere Ma devi per forza Fare i miei Di soli Non ce li ho io Ah no Tu quanti ne hai? Io quanti ne ho Te lo dico subito Io ne ho 20 E qualcosa E' una 50 Chi vuole l'insalata? Chi la voleva? Tu signora Ma quanto ti piace L'insalata? Se la mangia come un maiale Ma che faccia? Ehi rispondimi Guardate che brutta faccia Guardate Ehi quanti like Ehi tu Tu tosto Quanti like dobbiamo lasciare? 15 grazie Ok ha detto 15 like Avete sentito? Io sto facendo la piccola Oh ordine ravioli Ordine ravioli Ordine ravioli Ordine ravioli Il nuovo cibo Il cibo più nuovo che abbiamo Grazie Premi rapidamente Scorri sinistra e destra Anche a me Premi Scorri a destra Premi Premi Ok Sta in forno Sta coscendo No lo clicco Lo prendo io Io ho la pezza a formaggio Ma sono i miei davanti Buon appetito Parezza lei Allora Quante Quanti ne vuoi Seggi Ah no Ancora Vediamo quanti soldi cita Tu quanti soldi hai? Io ne ho 26 Sembra che ne vuoi Ne vuoi Ne vuoi Il più Presto Duota il tuo dito Comunque Ruotiamo 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 il nostro Gittin Stai facendo una pizza Alla diavola Io l'ho già finita Tu che stai cucinando? Io sto facendo una pizza A formaggio Ciao Lo prendo Io intanto cucino Una pizza alla diavola Parecchio Vuoi Tu che vuoi Una Che vuole Sarax Pizza vegetariana Abbiamo un sacco di pizza Ovvero Ovvero Chissà quando Sbloccheremo Oggi Vuota il tuo dito Scorri Sinistra Destra Scorri Destra Scorri Giù E aspettiamo Che cuoce Io ho la pizza La diavola Tu Io ho la pizza La diavola Scorri Ok fatto Vuoi pure la pizza La diavola Tu Ma vera Mamma mia Quindi sono 15 like Sì sono 15 like Il tuo ristorante Sai che è molto buono Grazie 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 Perché ho solo Una stella e mezza Dovrebbe averne di più Eh lo sappiamo Ne vogliamo Tantissimo Ma tutti gelato Vabbè il gelato Tutti sanno che Quella Quella confezionata Guarda che Giorno 9 completato Chef livello 5 Arriva Livello 6 Un nuovo cibo Spaghetti con le polpette Spaghetti con le polpette Sì 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 Per favore li voglio io Andiamo a fare il gelato Ma ci davo La tizia che vuole sparecchiare Vai a sparecchiare A chi A te A te A quell'altro A voi Ai sollini Tu Dammi sollini Dammi sollini 14 euro e 22 Quanti ne hai? Aspetta 82 Stai finito a mangiare Io ho preso un gelato Lo vuoi tu? Ok lui vuole il gelato Glielo ho dato Quindi ok E il gelato? Tavolo per due? Ok Il tavolo Per Allora ragazzi Iscrivetevi per il canale Bisicuro Sto facendo cose Che devo dire Per niente Tavolo per uno Tene Adesso fragola Panna E cioccolata Ravioli Tavolo per due Grazie Tavolo per due Tavolo per due E per abbassa la voce No tranquilla Qua è poco Oggi comunque è uscito il nuovo brawl pass Però io Non posso Sarax Devi Chiamare Per Comprare Questo Buono Da 20 Questa cosa buona? Il buono Sara sarebbe Sarax sarebbe Qualcosa Tipo le carte Google Play La carta di credito Sono le buone Che hanno i soldi E la Tu devi prendere La carta Google Play Sì Sì Una carta A regalo Oggi Oggi C'è Un nuovo Pass Di Bell Il cromatico Prendi pure il mio Pane all'aio Due pane All'aio E prendi pure L'altro E che sta Prendendo Uno Ecco qua Due Quanti pane all'aio Sparecchio a te 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 Due persone 8 di nera Ah questa vuole Buona pezza vegetariana Da te Ti dico io Se io Farsi Due stelle Un pochissimo Siamo Due stelle Sparecchio a te Sparecchio a te Sparecchio a te Sparecchio a te Tavolo per 1 e 0 per 1 Prego Quocicuo ci cuo ci cuo ci cuo ci cuo' ci cuoO Questa è una notizia ! Qua qu c informações Vorreialone Oddio ci sono venuti a cuo lo right Li amici hanno già preso? No No lo le ho messo ma questa non sa che siamo dei due youtube che vuole fare scriviglielo non posso andare in chat perché sto cucinando ok finito ma c'è solo lei in server un'occhiatina solo lei un parolone beh grazie chi vuole spaghetti con le polpette guarda qui spaghetti con le polpette buon appetito no pure questo li voleva guarda sta mangiando buono sai che la tua magliette è molto bella ora posso scrivere e vabbè però non è che ci vuoi metterti guarda qui spaghetti la parte no io devo cucinare a te ti piace gli spaghetti con le polpette no c'è sì 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 ma dà il sugo eh il sugo scorrì destra voi ovviamente lasciate una kamehameha di mi piace e iscrivetevi e fate una rising grassa di iscrizioni e seguite il canale di mircox il nostro obiettivo arrivare a 100 insieme ravioli oh ah grazie l'ho dato buongiorno tavolo per uno ma non si preoccupi vedi aspetta devo sparciare questo ok mi devono pagare oppure vogliono qualcos'altro pagate pagate ok ciao tizia tavolo per uno dai mi dispiace non c'è deve attendere per ora no sta la sta la all'inizio ah ecco gelato 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 è una cosa che mi dispiace perché ha una forma bellissima e poi questo non è una non è un gelato semplice un dolce gelato appunto è solo che quelli dei ristoranti sono molto meno buoni di quelli delle gelaterie 8 di gennaio grazie quanti togli hai 166 176 pizza alla diagra pizza al formaggio è comodo questo lavoro se anche se devi cucinare continuamente eh io devo fare diavolo e formato anche ce l'abbiamo a fare prima ci sono domani che ci sono due segnali in città continuiamo questo cammino un buon pomodino ora la panella Naga, naga, naga Sara Mi chieda la testa Ma perché non fai reset to chapter? Ah ok Azzera personaggio, muoviti Reset to chapter Sei morta Sara Ho visto la sua telecom non crede Se mi chiasse Dimentico Prima il toneto, poi finiva Prima il toneto, poi finiva Ancora, ancora Ancora Lesta Lesta Rienzo Riaggiungere Un po' di Lesta 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 Cacca Aggiusti Della puto Sì Un altro cibo, pasto regolare Il tiramisù Il tiramisù Il tiramisù È ancora Il tiramisù È ancora il mio manager Vediamo quanto è Se questa cosa non va non funziona rientra e se rientra se questo clic ah ma ti annacherà no devi fare attendi anche a me anche a me si sta pagando a volte però non è diventata oh 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 roblox ti hanno creato ti hanno creato va allora a dire che si può concludere così bene ragazzi io spero che ah ehi che questo video vi sia piaciuto dall'orex me che è tutto noi ci vediamo dopo in un prossimo video ciao